Già in campagna elettorale mi ero dichiarato laico rispetto alla possibilità di riaprire in questo caso però in un solo senso la galleria Bombi. Molti commercianti ce l'hanno chiesto e l'amministrazione comunale perciò ha deciso appunto in modo laico di aprirlo in modo provvisorio. Da fine ottobre probabilmente ai primi di novembre fino a gennaio-febbraio lo sospenderemo probabilmente durante il dicembre goriziano. Lo scopo è quello di favorire l'uscita della città togliendo anche alcuni punti critici che oggi ci sono nel traffico cittadino. Vediamo se questo potrebbe anche consentire di rivitalizzare quella zona. Naturalmente l'amministrazione municipale sta pensando anche a due posteggi con cui servire Piazza della Vittoria.